Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono JokerWarser2000 e oggi faremo un'altra partita su Ultimate Team Con la squadra del Napoli e questa volta giocheremo con i Gantt a posto di Milik Adesso andiamo a cercare il nostro avversario Andiamo a cercare il nostro avversario e vediamo chi sarà, chi sarà, chi sarà Vediamo chi è, chi è, chi è Il mio avversario Cocco619 Bellissima nota Io voglio la Magister City Adesso vediamo il nostro avversario che squadra Vediamo il nostro avversario di squadra Ha una Premier League il mio avversario Una Premier League Si comincia Ecco lo schieramento alle padroni di casa Alla 433 per l'orologico Mi sono Giorgini 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 Si oppone davanti l'avversario Attenzione ragazzi Attenzione 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 Fabiano Il nostro av negozio È un negozio È un negozio Giorgini Giorgini E Caduvi Giorgini E Caduvi Giorgini Guadagni a metri verso l'area Prova ad aprire la scatola difensiva avversaria Eccasino Giorginio Riccardi Non riesce a fare Non bastano bene i corti Isoi Giorginio Giorginio attenzione ragazzi Attenzione E Gulanna Recupera Halla Giorginio Ma la recupera La difesa avversaria Attenzione attenzione Halla Halla Mertens 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 non passa bene E ovviamente la difesa spazza via Prova ad andare in progressione Ci sono metri a disposizione Buono il recupero Possono ricominciare Nessun problema per la difesa che recupera I equilibri dei guardi I guardi contro il difensore Non passa Giorginio C'è la deviazione dell'arbitro Sventa qui la minaccia E la verde anche qua La difesa avversaria La difesa avversaria Andando forte in difesa Andando forte Musa Giorginio Giorginio Mertens Scatta sulla fascia Scatta sulla fascia Grande Mertens Grande Mertens Grande Mertens Grossa Non rossa E sarà calcio d'angolo per noi Giorginio Mertens Giorginio Rossa E la intercetta I nostri avversari Attenzione Giorginio Mertens Mertens Grande Mertens 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 Giorginio Giorginio Mertens pertence e non te la teglia non è una lettura si avvicina all'area è un brutto fallo vediamo se l'arbitro prende provvedimenti inizio ripartiamo, ripartiamo Mertens, vai Mertens, riparti, vai Mertens vai Mertens, vai Mertens ma non riesce a tagliare l'arbitro ma perdiamo di nuovo palla con un passaggio sbagliato da Palla troppo tenera per i compagni putà e il guarda recupera il cadute e il pericolo ci pare un altro passaggio che non riesce a prendere la palla il cadute, adesso è Giorginho e Kaduri Kaione e Kaione Giorginio E non riesce a buttare la valla Coulibaly Ulan Ma prende la valla con fallo Un fallo Pallone Tranquillamente fra le braccia del bordo Pallone c'è benissimo E quindi va a colpire Adesso Mertens Icardi Icardi hai seduto solo Icardi 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 tira Icardi Magno Icardi 1-0 Finalmente Icardi si sblocca Si sblocca Icardi Ho segnato un gran gol Nell'angolo basso destro Ed ecco dunque Arrivato il primo gol dell'incontro 1-0 Da indietro al comparto Questa è una zelta di giro Ci sono metri a disposizione Goulin Goulin Giorginio Ma non riesce a A far passare la valla di carta A prendere la valla di carta Tagliò Caglione Cerca Scartallo Caglione Provera il cross Ma Adesso Gioca Combani C'è E la mettiamo Adesso Adesso Giorginio Giorginio Nessuno c'è Cugli 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 Cagli Cugli Cagli Farlo Anche lui Farlo Anche lui Farlo Il mio Vestero Per il tiro Da lontano Ma Non riesce Giorginio Ma la recupera Gullibali Ma la recupera Anche il mio Giardino Il passaggio Che Marca Di Lato Il Fino Primo Tempo Iniziamo 1-0 Io cerco di Conduire Così Che il mio Avversario Anche Cagli Il Caduri Guardi 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 E non riesce a passare Palla girata sulla corsia Gullam 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 Non riesce a Versarlo No è Alan Scusate Adesso c'è anche il lag Parte il traversone Ottimo La lettura Difensiva La recupera Ma non spezzato bene La rivediamo Con Gran tiro In mio avversario Anche provando Il tiro Con il ruolo E non va E non va Attenzione Grande al giorno Alla Giorginio Giorginio Riccardi E Perde la palla C'è spazio Per andare Attenzione E riconquistiamo Anche qui Il pallone Giorginio Il caduri Icardi Icardi Sì tutto solo Sì tutto solo Icardi Prova il pallonetto E il portiere A palla Anche il caduri E sbaglio Per il pallone Ma Non entra La palla La palla La palla Non entra in bordo Il lag C'è anche Il lag Ci si mette Giorginio Ehi sai Scusa adesso Giorginio E il caduri Giorginio E il caduri Giorginio Giorginio Non riesce a passare Allora abbiamo appena parlato della buona circolazione di palla Però qui hanno sbagliato Palla schizza via dopo il contrasto Giorginio 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 Prova il tiro E il portiere La palla Calcio all'angolo E la buona chance Per aumentare il vantaggio Giorginio 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 Anche qui c'è il portiere Adesso 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 C'è una serie di passaggi Adesso 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 Giorginio Adesso Giorginio Si Adesso Giorginio 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 Efficace Qui Il portiere Cosa Anche i fotografi Giorginio all'attenzione Giorginio Attenzione Giorginio Attenzione Giorginio Può scambiare con il compagno Giorginio Equilibili Giorginio La riesce a recuperare Mertens I cardi Ma la verde Ma la verde Perché il mio avversario Ha fatto il fallo Ha commesso il fallo Adesso Eccaduri Mertens Giorgino Alan 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 da solo Alan da solo Ma il mio avversario Da intercetta Attenzione ragazzi Attenzione Isai Al Bion I cardi I cardi I cardi Al Caglione Caglione Lo è corsa Adesso c'è Isai Perde palla Wilshire Adesso Dobbiamo stare attenti Stiamo attenti Stiamo attenti Stiamo attenti E qui E qui Li pare L'ultimo La prende Alan Alan I cardi Caglione E il pallone Se ne va via Eccaduri Per i cardi I cardi Come il tiro Come il tiro Ma Non riesce I cardi Il difensore Lo ferma Tutti Vediamo come si sono divise finora Il possesso palla Le due squadre Non c'è stata una metà supremazia D'onore Siamo all'attenzione Attenzione Sostanzialmente Iniziale C'è tra persone Senza problemi La parola Attenzione Non abbiamo sperato A sti in passaggio Per il passaggio Ma li recuperiamo Ma li recuperiamo Li recuperiamo Anche Ecco qua Isai Caglione Giorgino I cardi Non riesce A prenderlo Il dodicesimo uomo In campo Controllano Tensione ragazzi Tensione Grandi albioni Caglione Alla I cardi I cardi Paurito Paurito Prova il tiro Nel versare di venti Accetta Quindi Senta Faccio Un'altra Per noi La Invece Furi Non è uscito Furi Caglione Caglione Un momento giusto Adora doppiato Adesso Sono avanti Due a zero Adesso Giorginio Siamo entrati Negli ultimi Quattro Di Senta Invece 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 Sono metri A disposizione No Anche Non è uscito Ma è uscito La difesa Giorginio Giorginio Riccardi 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 Fiamma che ce la fa passare Ma non ce la fa Caglione Adesso Abbiamo Abbiamo L'avanti Fai Giorginio Per il passaggio Tensione Ragazzi Tensione E c'è sempre La difesa Questa Firmare Tutto Ottimo recupero Del pallone Adesso Ragazzi Quilibali Non riesce A contrastare E ci pensa Il Bios E' finita Ragazzi E' finita Che vittoria Sudata Che vittoria Sudata Ragazzi Spero Che questo video Vi sia vissuto Vi invito a mettere Un like Commentate Comunque Dividete Iscrivetevi Al canale Se questo video Arriverà A 10 like Farò Una 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 Challenge Che sarà La flip challenge Farò Se volete Che io faccio La flip challenge Arriviamo A 10 like Ciao ragazzi Vi saluto E ci vediamo Al prossimo video Ciao